Eccoci qua, comunque c'è stato un dibattito, una querela sulla questione di Ronaldo perché non è andato là. Ma come cazzo si fa? Ma è ciò la scienza? A parte capista cazzo di cosa? Ronaldo non c'è andato perché porca puttana, perché lui sapeva sicuramente che il pallone d'oro a destra e a destra e il giocatore dell'anno della Champions non l'avrebbe vinto. Quindi forse perché ha vinto la Champions, però il Panamodri c'è andato in finale di mondiali con la Croazia e il Portogallo è uscito prima. Ecco perché un'altra ribadizione, come perché la tazza traffa il torno, uno mi ha rabbio, perché non si sia così. Con un'altra forza questione perché non ce l'hanno andato, però comunque sia, non si può. Ma così forse perché pure Ronaldo, non credo che la società di Juventus, non c'è la delibera per andare questa è un'altra parte manica. Ma se un giocatore sa che lui già non vince, è normale che non si presenta. Poi Ronaldo vince tutto, Champions League, palloni d'oro, santissimo e madonna. Ha vinto tutto quanto, Coppa, Europea, Kiel e quell'altro. E' normale che ruote il cazzo sapere che un ex compagno di squadra sollevava il trofeo della Champions. Questo è un altro paio di male, però il motivo dovrebbe essere stato questo. Poi Ronaldo ha segnato quindici colli in Coppa, è un altro conto. Comunque, questa è stata una faccenda da chiarire perché sono state troppe, ho scelto tantissime polemiche a destra e sinistra, inanellate in altre storie. Più chi dice una cosa, chi ne dice l'altra. E' sempre che lezze, capisci un cazzo, perché ognuno c'ha l'idea sia. Ci sono tutti infradubi, ma come cazzo si fa? Come cazzo, se ti dice una cosa, si stanno proprio avvelenati. Come cazzo si fa? Come cazzo, come c'era un altro, come può fare le fortune? Si vedrà in futuro, speravo, ma andiamo positiva in Coppa, anche sicuramente in campionato anche. Però non riuscirà a fare il gol, credo, che ha fatto in Liga Sbagliola, le difense tornano con il cuscinetto, proprio. Le difense sbagliano completamente, hanno buchi a tutte le parti, invece italiane più combattie, più strette, tirano a destra e sinistra, quindi più complicato. Ugo, iscrivetevi se siete per casa, se l'avete fatto, ne siete a commentare, ci vediamo al prossimo video, poi, poi, poi.